L'ingegnere Elisa Franzoni è la vincitrice della prima edizione del Luca Bertolini Memorial Award. Qual è l'oggetto del suo lavoro scientifico? Il mio lavoro scientifico è intitolato The Terranova Render of the Engineering Faculty in Bologna, Reasons for an Outstanding Durability ed è un lavoro scientifico in cui assieme a colleghi dell'EMPA e dell'ETH svizzeri ho studiato le caratteristiche di questo intonaco Terranova originale che è presente nella nostra Facoltà di Ingegneria di Bologna. Si tratta di un edificio razionalista di grande importanza e tutelato dalla soprintendenza dove è presente nelle finiture esterne questo intonaco che sopravvive in condizioni praticamente perfette dopo quasi 85 anni dalla pose essendo ancora un intonaco originale. Quindi in questo lavoro ho studiato le ragioni di questa straordinaria durabilità facendo una caratterizzazione del materiale e trovando anche con l'utilizzo di tecniche di caratterizzazione non convenzionali come la microtomografia raggi X che hanno all'EMPA o altre tecniche. Siamo riusciti a capire le ragioni di questa grande durabilità cioè praticamente si tratta di un intonaco uno dei primi intonaci premiscelati che sono stati messi in commercio in Europa e anche negli Stati Uniti nel periodo tra le due guerre mondiali e abbiamo compreso che questa durabilità in realtà è connessa a vari aspetti dell'intonaco totalmente inaspettati. Per esempio non si tratta di un intonaco cementizio ma si tratta di una calce magnesiaca con piccole tracce di cemento bianco quindi un legante completamente diverso da quello che normalmente si ritiene sia quello di un intonaco degli anni 30. è un intonaco di grandissima resistenza meccanica quindi paragonabile a una malta cementizia ma che ha la microstruttura, la permeabilità al vapore e in generale la porosità più simili a una calce. Questo grazie all'utilizzo di chiamiamoli proto additivi aeranti che conferivano queste macro bolle all'impasto. Quindi abbiamo un materiale che è sostanzialmente resistente meccanicamente come un cemento ma permeabile come una calce. Una cosa straordinaria che ha fatto sì che questo intonaco ci sia aggiunto in condizioni perfette nonostante sia in un edificio che è completamente privo di qualsiasi protezione o sport del tetto perché è un edificio razionalista. Quindi è un intonaco esposto direttamente agli agenti atmosferici, acqua, gelo e quant'altro. Che significato ha per lei aver vinto questo premio? È una grandissima soddisfazione per il grande prestigio di questo riconoscimento, ne sono davvero onorata e devo ammettere che quando ho ricevuto l'avviso come tutti di questo premio ho pensato subito di inviare questo lavoro perché questo articolo è impegnato su due temi. Il primo è quello della durabilità dei materiali e l'altro è quello del restauro del moderno che sono due temi che erano cari al professor Luca Bertolini che ci ha lasciato degli articoli, dei testi splendidi tanto sulla durabilità dei materiali quanto anche proprio sul restauro del moderno. Che è un tema che negli ultimi anni ha avuto un'esplosione, negli ultimi 4-5 anni ma che una quindicina di anni fa quando lui ha iniziato a occuparsene era tutt'altro che scontato. Ingegnere, lei nel dettaglio di cosa si occupa? Io sono del settore scienze e tecnologia dei materiali quindi la mia competenza è nell'ambito dei materiali da costruzione. In particolare io mi occupo da sempre di materiali per il restauro architettonico quindi di anzitutto conoscenza dei materiali storici che è la base per qualsiasi buon restauro ma anche di nuove soluzioni sia di monitoraggio che di restauro per il consolidamento, la protezione e anche l'umidità di risalita.